Sono scomparsi due ragazzi, uno è il figlio del capitano Rea. Signori, per favore, questa è casa mia! Dicono che è scappata, ma non è vero. Il resto sono passati dieci anni dall'ultimo omicidio. C'entra il mostro. Ho letto da qualche parte, non ricordo dove... Come che la chiamano? Cane e pazzo. All'epoca si parlò di setta satanica, che sui corpi vennero trovati incisi dei simboli a forma di tridente. Lei ha già infangato il nome di una divisa per la pariudare e la vita. Se sparisce la figlia di un'ex prostituta, non frega un cazzo a nessuno. Tu ci pensi tanto, Tufito. Però se spariscono due ragazzi ricchi... Aiuta! ...perdono tutti la testa. È colpa tua! ...